e si rispattiva non è vero cosa e si va guardando la volta non è uscita niente e che mi trovo bene e lo faccio ne va sempre e la musica bravissimi questa sera vi devo fare i complimenti state fatte oh ma che è successo ma che ma che sta succedendo ma che fa ma non l'ho capito ma l'hai sparato tutto a chi hai sparato? no non l'ho sparato a nessuno e la sveglia del cellulare sei un rumen all'adretto stai scemo tu avete già iniziato? no stavamo aspettando a te eh potevate iniziare tanto diciamo sempre essersi strugzati e ricordati che noi siamo uomini di Gomorra i Gomorraici e basta lascia stare pensiamo agli affari vi ho detto dobbiamo restare concentrati vi devo dare una notizia sappiate che hanno bloccato il traffico di diamanti che abbiamo nel Qatar ragazzi bisogna andare oltre e che cosa ci sta dopo il Qatar? la brunchita è perché il brunchita animale ho detto che devi restare concentrato andremo semplicemente nel Congo precisamente nel Congo belga che tra l'altro è la parte più fresca dell'Africa eh come si dice? Congo belga Congo fresca non mi puoi micchiare hai capito? e perché? e perché? ho dei vetri fabbricati chimicamente di forma concava appoggiati sull'iride e cioè? che è latì che è latì che è latì che è latì